Stiamo sistemando il campo, Damiano sta cercando di fare il possibile per tagliarsi, tra un attimo dovrebbe riuscirci, uscirà molto sangue per cui non impressionatevi, questo è Cristian, Cristian arriva da luoghi del mondo più disparati, è venuto qua, è venuto qua anche lui, è venuto qua, è venuto qua anche lui, è venuto qua, è venuto qua, è venuto per tutti, scaldando un po' il polpettone perché non c'è fuoco con le patate, sai che ti vi dirò che magari conviene mangiare stasera sulla ceramica la bistecca che è più grande e mangiare adesso su questi Grazie a tutti